Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori si segnalano rallentamenti tra Firenze e Viadotto del Ponte all'Indiano e Scandicci in direzione Livorno. Per lavori è chiusa l'uscita di Scandicci provenendo da Firenze fino alle 16 di oggi. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. Per la viabilità cittadina a Firenze in Viale Amendola fino all'11 febbraio transito e sosta nel controviale tra Viagiotto e numero civico 48 interrotti all'altezza del cantiere. Fire per i treni per un guasto agli impianti di circolazione a Ponte Aelsa. I treni sulla linea Empoli-Siena potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!